Nel 1941 un ex broker di Wall Street di nome Fred Schwed pubblicò un libro satirico sulla finanza americana dal titolo Dove sono gli yacht dei clienti? Il nome deriva da una vecchia battuta di un cliente di John Pierpont Morgan che, passeggiando con il famoso banchiere per il porto di New York e vedendo le lussuose barche dei finanzieri di Wall Street ancorati al porto, chiese Sì, ma dove sono gli yacht dei clienti? Sono passati 80 anni dal libro di Schwed, ma le cose non sono cambiate molto. Il sistema finanziario continua a promettere ritorni straordinari agli investitori, ma alla fine a riempirsi le tasche sono sempre loro, le banche, i gestori, i broker. In questo video vediamo tre modi con cui i professionisti del sistema finanziario succhiano soldi dai nostri investimenti. Se vi piace il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazzaro e vi parlo di economia, finanza e investimenti. Il primo modo che il mondo della finanza usa per spillare soldi a noi investitori sono le commissioni di gestione. Il capolavoro del diavolo è aver convinto tutti che non esiste, scriveva Charles Baudelaire 150 anni fa. E infatti quando voi sottoscrivete un fondo di investimento vi sembra di farlo a costo zero. Quando andate a fare la spesa al supermercato vi fanno il totale e pagate. Quando andate al cinema pagate il biglietto. Quando andate dal dottore e pagate la parcella. Anche quando comprate qualcosa su Amazon o da qualsiasi altra parte, inclusi i videocorsi come il mio, dovete pagare fisicamente qualcosa. Vi viene presentato un conto e voi decidete se merita i vostri soldi oppure no. Quando investite in un fondo di investimento non vi arriva nessun conto da pagare. Avete mai dovuto pagare di tasca vostra per la gestione di un fondo di investimento? Certo che no. Quindi non pagate? Certo che pagate, solo che non ve ne accorgete e di conseguenza non sapete neanche quanto. Quando investite in un fondo di investimento voi pagate ogni anno delle commissioni al gestore del fondo. Lo sapete perché non ve ne accorgete? Perché tecnicamente non siete voi a pagare le commissioni, ma è il fondo stesso che le paga al gestore, visto che è una società a parte. Di conseguenza nessuno vi viene a chiedere i soldi direttamente, ma visto che il fondo è anche di vostra proprietà perché siete azionisti del fondo, di fatto le state pagando voi. Facciamo un esempio. Investite 100.000 euro in un fondo che ha un milione di euro di asset. Quindi avete il 10% del fondo. Il gestore del fondo chiede il 2% di commissioni all'anno. Questo 2% si applica sul totale degli asset, perciò a fine anno viene calcolato che il fondo deve pagare 20.000 euro al gestore. Quant'è la vostra quota di quei 20.000 euro? Beh, se avete il 10% del fondo, sostenete anche il 10% dei costi e di conseguenza dovete pagare 2.000 euro al gestore. Attenzione perché nessuno vi verrà mai a chiedere di pagare quei 2.000 euro di tasca vostra, ma siccome vengono fatti pagare al fondo, di fatto stanno venendo automaticamente scalati dalla vostra quota. L'altra cosa importante da sapere è che le commissioni sono sempre in percentuale. Questo vuol dire che all'aumentare degli asset del fondo, il gestore prende automaticamente più soldi. Supponiamo che il fondo dell'esempio precedente riceva nuovi investitori e quindi passi da un milione di euro di asset a due milioni di euro di asset. Quanto prende il gestore adesso? Le commissioni sono sempre 2% e quindi il gestore si porta a casa 40.000 euro, il doppio di prima. Questo concetto è importante perché essendo le commissioni in percentuale, il gestore ha un enorme incentivo ad aumentare gli asset del fondo. È per questo che c'è così tanta pubblicità nel mondo finanziario. È per questo che c'è sempre questa spinta fortissima a battere il mercato, a mostrare le performance e a dire investi con me che sono più bravo degli altri. Perché più grande il fondo, più il gestore guadagna automaticamente ogni anno di più. Attenzione perché il fatto che il fondo sia più grande non significa che generi performance migliori per gli investitori. Anzi, Warren Buffett l'ha sempre detto, all'aumentare delle dimensioni di un fondo è più difficile portare avanti una strategia vincente perché ciò che funzionava con pochi soldi può non funzionare con masse di denaro più grandi. In genere perché l'universo dei possibili investimenti vincenti si riduce. Il secondo metodo con cui il sistema finanziario spilla soldi agli investitori sono le commissioni per la consulenza. Fino a un po' di tempo fa, quando la scelta di default degli investitori erano i fondi attivi, molte banche che facevano consulenza in genere spingevano l'investitore ad investire nei fondi con cui la banca aveva un accordo di retrocessione di commissioni. Cosa significa? Allora, ammettiamo che io sia il gestore di un fondo di investimento che carica il 2% all'anno di commissioni. Vado dalla banca distributrice e gli dico, senti un po', per ogni investitore che mi porti, io ti giro un quarto delle commissioni che questo mi paga. Per cui, se mi paga il 2% all'anno, io ti giro lo 0,5%. Secondo voi la banca dice, no grazie, non si fa? Oppure dice, bene bene, questo pensa che io gli faccia consulenza gratuita e invece mi prendo i soldi sotto banco? Vedete un po' voi. Ora le cose sono un po' cambiate, nel senso che con l'ultima direttiva europea sulla tutela del risparmio, ora le banche devono dire se ricevono commissioni dei fondi che propongono e in che quantità. Ovviamente se io cliente so che la banca riceve delle commissioni, devo prendere il suo consiglio cum granosalis, come si suol dire. Ma alcune banche si sono fatte più furbe. Con la diffusione dei fondi passivi e con l'avvento di queste nuove direttive sulla disclosure, alcune banche che fanno gestioni patrimoniali hanno pensato di usare questo schema. Ma perché pagare dei fondi attivi? Per carità, usiamo gli ETF, anzi degli ETF con cui non abbiamo nessun conflitto di interesse. Però per farlo offriamo una gestione completa che costa l'1% all'anno. È una gran furbata, praticamente le banche forti del rapporto con il cliente hanno pensato bene di far fuori i fondi attivi e di offrire sì gli ETF, ma all'interno di una loro gestione per cui chiedono, indovinate un po', una commissione annuale, esattamente come farebbe un fondo attivo. Insomma, hanno eliminato i fondi attivi per prendersi le commissioni direttamente loro. Geniale! Il terzo metodo con cui gli investitori si fanno spennare sono le commissioni di trading. Ogni volta che comprate o vendete un titolo finanziario di qualsiasi tipo, pagate delle commissioni al vostro broker. Per carità, non c'è nulla di male nel pagare delle commissioni per avere un servizio, purché siano ragionevoli. Ma quel continuo comprare e vendere titoli finanziari, il famoso trading, è quello che spena gli investitori. Ricordate, quando fate trading state speculando e quando si specula uno vince e uno perde. È un gioco a somma zero. Chi è che vince sempre? Il banco. Tutti quei colori, tutti quei più e quei meno, tutte quelle campanelle, tutte quelle news. È successo questo, è successo quello e quel modo di mettere in risalto i risultati per cui sapete al centesimo quanto state guadagnando o quanto state perdendo? Lo dico tra virgolette perché un investitore di lungo termine guadagna quando decide se e quando vendere e intanto prende i dividendi. Invece, il modello di business dei broker incentiva il trading continuo. Non perché fa bene agli investitori, anzi, è il miglior modo per perdere i soldi, ma perché più gli investitori comprano e vendono, più il broker ci guadagna. Un'altra cosa terribile sono le commissioni a scalare, per cui più fai trading e meno paghi di commissioni. È fantastico perché te lo dicono come se ti facessero un favore, cioè più aumenta il monte commissionale e meno paghi, ok? Ma il monte commissionale sono soldi che intanto io ho speso e che sarebbe stato molto meglio non spendere. Insomma, i conflitti di interessi del sistema finanziario sono innumerevoli e purtroppo vale la regola sempre verde che più il sistema finanziario guadagna, più voi ci perdete. È sempre stato così, ma gli investitori non imparano mai. Se volete investire, non sapete come fare e non vi fidate delle banche o dei consulenti, date un'occhiata al mio videocorso Cumulare Capitale, il corso che ho pensato per chi come me vuole imparare a costruire un portafoglio in autonomia, senza speculazione, senza consulente, un portafoglio che resta per il lungo termine, semplice ma efficace. Trovate il link in descrizione qui sotto. Infine, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazzaro, sempre qui a parlarvi di economia e finanza e ci vediamo nel prossimo video.